Noi abbiamo detto da subito, quando abbiamo sospeso lo sciopero con il presidio di Nancy Cancelli, che per noi l'avvertenza non era assolutamente finita. Si annuncia lunga e complessa la trattativa per gli incentivi da destinare ai lavoratori della Onewell di Atessa, che a breve perderanno il proprio posto di lavoro a seguito dell'annuncio da parte della multinazionale americana, che vuole chiudere entro il 2018 l'impianto in Val di Sangro, in cui si producono turbocompressori per il settore automotive. Dopo l'incontro avvenuto ieri, le parti restano ancora distanti sulla cifra dell'incentivo. I sindacati sono fermi a quota 80.000 euro l'importo del bonus dato ai dipendenti nel corso dell'ultimo piano sociale. L'azienda, invece, vuole trattare da una cifra nettamente inferiore. I rappresentanti dei lavoratori, in particolare la FIOMCGL, non sono disposti a scendere sotto la soglia indicata. Il 23 ci sarà comunque un nuovo incontro. Davide Labrozzi, segretario FIOMCGL Chieti. Nel prossimo incontro che si terrà la prossima settimana, se l'azienda non dovesse avanzare una proposta e quindi se non dovesse fare un'apertura rispetto a quella che poi è una richiesta legittima, la nostra richiesta è assolutamente legittima, perché qui non parliamo di un semplice piano sociale ma della chiusura dello stabilimento. Dicevo, se l'azienda non dovesse rimuovere questa barriera oltre la quale non va, noi sicuramente riprenderemo l'iniziativa di lotta.